I guess it never miss, huh? You've got a boyfriend, I guess he doesn't kiss, yeah? Per questo trucco avremo bisogno ovviamente di una bottiglia No, una bottiglia, lo dico oppure no Per questo trucco avremo ovviamente bisogno di una No, non è vero, non Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso Stai zitto, oh Mi sa che c'ho il pezzo di vetro di prima qua Tiene, ma ti punti, ma ti punti? No, però è duro That's what she said Ok Mi lascio le mani Ho il calzino bagnato Ah, non te l'ho detto, è vero Che hai fatto? Mi è cercato da qui Me lo dici adesso Un martello Fa una cosa Apri un po' le gambe così Metti di tipo qua e apri un po' le gambe così Perché? Guarda giù con la videocamera Metodo numero 4 Useremo un pezzo di carta Era 3 o 4 questo? 3 Metodo numero 3 Ok? 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 Ci sta? Attento a non partire Attento a non partire Ok, ragazzi evitate questo metodo qua Non so se non sono tipo strazoommato Stavo dicendo Ragazzi evitate questo metodo qua se non volete farmi male Uh, mi fa male anche solo a vederti Spingi con le dita di sotto Non con quelle Mi la devo fare Se avessi un cerotto te lo darei però Aspetta Guarda che cerotto che ti ho trovato No Dai dai Giuse Dai Giuse Dai Giuse Perché? Mettitola tu Non posso io Non mi so affatto male Dai minimo quello di Spongebob giallo Non blu Spongebob si Spongebob va bene Eh Ok Io mi vado ad ammazzare Non so se lo puoi fare anche tu Giuse Lo puoi fare anche tu No penso di non volerlo Forse adesso sto capendo perché hanno consigliato il metodo della porta Poi dite che noi youtuber non ci sacrifichiamo per il nostro lavoro Ma che cavolo Sai quanto sarà contenta mia madre tutto appiccicoso per terra Dai Che bello Fuck Non c'è il secchio Sta fuori Mettiamolo qua Qua sarà tutto appiccicoso dopo devo pulire Dopo devo lavare Mi madre mi ammazzano se vede sto video No 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 Non si vede ma c'è un blu Prova più a lo straccio Aspetta no prima levo questo qua perché sennò poi lo straccio diventa tutto quanto caramelloso eccetera Ah Giuseppe vuoi provare? No 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 Eppure eppure in teoria la cosa non dovrebbe essere difficile Cioè mi riusciva senza alcun problema Oggi morirò Mamma se stai guardando questo video Ti voglio bene Perchè E che ne sa come una vita E che vuole